Ciao a tutti da Tiger Siamo nel video dell'estrazione per vincere la Galaxy Cup Il contest per vincere la Galaxy Cup Un contest fatto ieri Il 31 luglio, oggi siamo già all'1 agosto E' un contest che dura poche ore alla fine Un giorno e mezzo, cioè una mezza giornata diciamo Calcolata in ore Perché l'ho fatto diciamo ieri pomeriggio All'orario, mi fa vedere l'orario qua No, non mi dice l'orario L'orario non lo metto Dovrebbero mettere una funzione, dovrebbe essere una funzione carina Così per capire quando uno carica il video Vabbè questo non c'entra però Allora Contest molto importante perché comunque E' una skin leggendaria ovviamente Stiamo parlando della famosissima Galaxy Galaxy femminile ovviamente che Per chi ha vinto la Galaxy Cup La riceveva gratis Ma qua se non siete abbastanza forti O comunque non riuscite a vincere la Galaxy Cup Non siete riusciti comunque ad ottenerla gratis O non avete i V-Buck Neanche per prenderla Ci pensa il vostro Tiger che ve la regala Ovviamente Sono stato molto deluso da questo contest Perché io adesso mi sto cercando di impegnare per portare almeno un contest al mese Per il momento Abbiamo soltanto ben 5 commenti Nel contest scorso che non era neanche Che era meno importante di questo Per quanto riguarda il valore Perché questo qua è una skin molto più bella Molto più importante, una skin nuova Pochi commenti 7 like però e 5 commenti Una cosa molto strana Quindi diciamo che molte persone che sono iscritte al mio canale Non hanno la campanella attiva Perché sicuramente Molte non avranno visto il video in tempo E quindi si perderanno il contest Però E questo mi dispiace molto Perché nello scorso contest c'erano molti più commenti Comunque andiamo a copiare il link Del video Ho dovuto cambiare il programma Ho usato un altro programma Perché quello là praticamente metto Ho fatto un video prima di prova E ho incollato il link del video E non vuole proprio Mi dice che mi da un errore Quindi proviamo adesso qua Ok 5 commenti Ok Allora prima di fare start Volevo precisare una cosa Due sono stati i fattori In questo contest Che hanno portato pochi partecipanti Diciamo che è una parte buona Per quei 5 che hanno partecipato Perché avranno molta possibilità di vincere E quindi avranno possibilità enormi Di vincere una skin Così Così bella E così costosa Perché 20 euro per una skin Sono soldi Ma Ma soprattutto mi dispiace Da lato a un lato Mi dispiace Per quelli che non hanno partecipato Perché proprio Sembra che non gliene Non gliene fregato proprio un cazzo Oppure non hanno visto il video E quindi non sono molto legati al canale Da Praticamente Appena arriva un video In un giorno Se lo vedono subito Hanno questo problema Di perdersi Lo scorso contest è durato una settimana Quindi molti hanno commentato Perché hanno avuto il tempo di vederlo Perché in una settimana Penso che un video lo vedi Anche se non caghi molto Molto un canale che sei iscritto Lo vedi Quindi questo mi dispiace molto Però pazienza Io cercherò comunque sempre Se avrò sempre la possibilità Di portare Di portare un contest al mese Lo porterò sempre comunque Almeno anche quei pochi Che cercano di partecipare Se non vincono questa Non hanno vinto quella dell'altra volta Che sono così sfortunati Vinceranno magari la prossima Se saranno sempre In pochi commenti Così avranno sempre più possibilità Comunque già abbiamo parlato Troppo Andiamo Start Vediamo chi vince E vince Giuse290 Complimenti Complimenti Hai vinto tu Il contest Per la Galaxy Cup Ovvero la skin Della Galaxy Se non mi sbaglio Ti ho anche Negli amici Su Fortnite Quindi riceverai subito Adesso Appena Appena carico il video Riceverai la skin Galaxy Sicuramente La riceverai Prima che il video Sarà pubblicato Io ti chiedo Io ti chiedo soltanto Una cosa Mi chiamo Pasquale Scigliano Su 96 Su Instagram Taggami su Instagram Scrivendo Vindul contest Di Tiger 9616 Grazie E mi ringrazio Ci tengo a questa cosa Mi tagghi Su Instagram Una volta che ricevi la skin E stop Per il resto Al prossimo contest Al prossimo video E complimenti Ciao a tutti Da Tiger Ciao a tutti Ciao a tutti